Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco, il pacco immerso dentro al secchio per fare certe cose, ci vuole orecchio. Quindi facciamo un esame dell'udito. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso, me lo sono segnato, aspetta, mi sono segnato le cose che faremo. Allora, io ti voglio parlare dei compressori, sì, ok, vabbè, questo si è capito, e tempi di attacco e rilascio, che sono molto importanti perché definiscono come il compressore poi farà risultare la nostra voce. E poi parleremo anche di compressori lenti e veloci, che non sono la stessa cosa perché ci sono dei compressori che sono lenti a prescindere dai tempi di attacco e rilascio. Poi ci sono, ma non è che ti sto a spiegare la rava e la fava, come sono nati, tutta la roba tecnica, ti faccio vedere delle cose molto pratiche perché anch'io non sono un tecnico, sono uno che impara strada facendo. Strada facendo, vedrai che ci vuole orecchio! Poi parleremo di, ah, di compressione parallela e, adesso com'è che si chiama quell'altra? Aspetta, sidechain, la compressione sidechain è una figata, è facilissima, però ha il so perché, proprio perché in questo modo tu puoi ottenere un grande risultato di suono che rispetta gli RMS e i loops, che roba è quella? RMS e loops che ti servono per ottenere un audio che poi potrai mandare dappertutto sapendo quello che stai facendo. Che è come guidare, guardando il conto in chilometri, dici, cos'è quella roba lì qua, la lancetta lì, tirala via, non mi piace, metteci un Whatsapp lì sopra. No, è il conto in chilometri, ti serve sapere che velocità stai facendo perché gli RMS e i loops è la stessa cosa, quindi tu stai facendo un audio e ti serve sapere quali sono gli RMS e i loops. Poi di cosa ti parlo? Ah, il preset perfetto! Anche di quello parliamo! Però te lo dico alla fine. Ma prima di tutto questo dobbiamo fare l'esame dell'udito, perché tu pensi di avere l'udito perfetto, in realtà quando facciamo l'esame dell'udito scoprirai che potresti non sentire tutte le frequenze, quindi non ti puoi fidare ciecamente di quello che senti in cuffia, per tante ragioni che adesso ti spiego. Ok, ah il preset perfetto? Metto il link qua sotto e... Il preset perfetto non esiste! Perché ci vuole orecchio! L'udito! Facciamo il test dell'udito, l'udito dobbiamo fare il test in questo modo, allora siamo qui, allora facciamo questo un attimo che se vede passo dai 20 Hz ai 20 kHz, lì in mezzo ci sarà un momento in cui non sentirai assolutamente più nulla e qui lì hai il Paz che ti fa vedere le frequenze su cui siamo orientati e qui comunque c'è scritto quanti Hz sono. Lo metto a... no, più 6 no, lo mettiamo a 0 per il momento. Non uso esattamente... c'è diciamo così la tecnica che usano quelli che fanno il test dell'udito perché loro hanno dei riferimenti molto precisi, sei in una stanza anecoica, hai le cuffie e poi ti mandano un suono a un determinato livello di dB e tu a quel punto senti più o meno quella frequenza, loro fanno il calcolo così, ma noi andiamo proprio a spanne, partiamo da 20 Hz e vediamo se sentiamo qualcosa. Allora, attacco. Ullo! Questi sono 20 Hz, come sei alto, aspetta che abbasso un attimo perché ok, sì, ti voglio bene ma non voglio distruggerti vero l'orecchio. È altissimo, sì. 20 Hz però si sentono, no no? 20. Andiamo a 40 Hz, abbasso un filo, tanto questa roba qua più o meno dovresti sentire. 50 Hz. La senti? O se non la senti potrebbero essere anche le cuffie che stai usando, potrebbe essere il sistema d'ascolto, anche quello incide, non è che tu sia sordo, se la cuffia non ti dai 50 Hz ci puoi fare poco, idem se non ti darà le frequenze molto alte, quindi questo non è un vero e proprio esame dell'udito, però è per farti capire che c'è un sacco di roba che non sentiamo, per vari motivi che vanno dall'età all'attrezzatura che stiamo usando. Abbiamo 50 Hz, andiamo a 60, 80, questi sono gli 80 Hz che di solito vengono tagliati nella voce per evitare i pop, i pop. Vado su. Siamo a 200. Siamo a 300. Siamo a 400 Hz. 500 Hz, abbasso un poco perché diventa veramente fastidioso, tanto sta roba più o meno la senti tutta. Questa la dovresti sentire tutta quanta. Siamo a 2000 Hz, cioè 2 kHz. 3000 Hz, abbasso, questa la senti per forza perché è tutta la parte della voce. Questo fa parte di quelle frequenze che riguardano la voce, infatti senti che tende a nascondere la mia? Ok, poi vado su. 5 kHz, 6 kHz, 7, 8. 8 kHz, li senti? 8 kHz e 2, li senti ancora? Sì, dovresti sentirli. Andiamo a 9 kHz. 10, questi sono 10 kHz. 10 kHz, li senti? Perfetto. Siamo a 13 kHz. Alzo il gain. Eh no. Lo senti ancora? Lo senti? 16 kHz. 18 kHz. Probabilmente quello che senti quando vado su, guarda i livelli qua sopra, quelli quei lì, vedi che va oltre un certo livello, quindi comincia a creare delle armoniche che mi fanno sentire una frequenza, ma che sicuramente non è sui 20 kHz, cioè sui 18 kHz dove sono adesso, ma è un'armonica che si aggirerà sugli 8 o una roba di questo genere. Non è sicuramente quella. quando la supero una certa soglia, ok? Non credo che sia altro che quello. Ok, va bene. Andiamo a 20 kHz. Questi non possono essere 20 kHz. Ascolti il suono. Se lo senti? Se sto a 0 dB, bene, appena vado in distorsione, genero delle frequenze aggiuntive. Senti qualcosa a 20 kHz? Può darsi che il cane abbia sentito qualcosa a 20 kHz. Poi hai visto che andando in distorsione abbiamo creato delle frequenze strane che sono uscite fuori. Non so se i compressori faranno la stessa cosa, ma io suppongo di sì, perché quando sbarelli i livelli succede qualcosa, per cui senti delle frequenze che non sono quelle che tu pensi che siano. Credo, eh? Ok. Vabbè, ho fatto questo test e più o meno mi sono fatto l'idea che sento fino a un certo livello, ma altri suoni non li sento proprio per niente. Quindi sono un cieco che vaga nella notte come mal dei primitivi. I tuoi occhi sono fari nella notte. Allora, qui c'è tutta una cosa da sistemare, che questa roba qui, perché questo qui lo tengo qui, perché poi io devo aprire anche un altro coso sotto, un software che poi mi fa vedere la forma d'onda mentre io parlo. In questo modo ti faccio vedere che il compressore lavora in un certo modo e reagisce in un certo modo. Ora io potrei farti sentire una cosa, no? Per esempio, vediamo un attimo. Sono già in sessione, sì, perfetto. Allora, prendiamo l'uscita del mio canale output, lo mettiamo in stereo output. Metto un attimo in bypass tutti i bass, perché ho creato dei bass per fare delle cose che mi servono per farti vedere come funziona il compressore. Ma io ho una situazione di questo genere, molto spesso, nel senso che se faccio la voce poi la devo mettere su una musica e suona così, per dire. Perché facciamo regali ad altre persone? Cazzo, suona bene. Per vedere la reazione nei loro occhi. Porca miseria. Ognuno ne ha una leggermente diversa, ma troverai quella ideale per chiunque con noi, su Notino. Tutte ste pippe per dirti che non doveva suonare così, invece sì. Allora, adesso tolgo via il compressore che sta lavorando qui. Perché ho fatto un uso del compressore anche creativo, nel senso del mix della voce. Questo non è lo spot che ho preso, il bianco è uno spot già andato in onda, quindi spero di poterlo usare, che ho mandato al produttore, ok? Che poi l'ha usato su un'altra musica. Io ho preso una musica così, che avesse un sacco di frequenze medie, che potessero dare anche fastidio alla voce per sentirlo. Se io non uso il compressore, che in questo momento sta funzionando come compressore di mix, cioè non comprime la voce, comprime la musica, la abbassa seguendo la voce. Te lo faccio vedere dopo, è una cosa che si fa in sidechain. In sidechain, che roba è? È una roba bella. Allora, se vado in play adesso, la voce. Perché facciamo regali a tanto... Senti che è indietro. Beh, per vedere la reazione... Ok, è indietro la voce rispetto alla musica. Perché poi tu dici, ma allora cosa hai fatto col compressore? Col compressore ho abbassato il livello della musica. E abbassando il livello della musica succede questa cosa. Però quel suono che tu hai sentito adesso è già in parte compresso, come quello che stai sentendo in questo momento. Perché la catena audio è sempre la stessa, ed è la stessa che ho usato per quella roba lì. Cioè non è che sia una cosa differente. Quindi tu ce l'hai già un po' corposo il suono. Ma se non dovesse essere corposo, avresti un suono... Aspetta che te lo faccio vedere. Scusa che devo andare a vedere qua dentro. Power. Questo. E poi spegni questo. Spegni questo. E spegni questo. Ok. Allora questo è il microfono nudo e crudo. Ok. È un OEM 87, quello che ti pare. Però è sempre un microfono nudo e crudo. È nudo come un verme. Senti che c'è meno corpo, c'è meno roba, c'è meno cosa sotto. Se io faccio partire solo la musica con questa roba qua, adesso metto in mute la traccia della mia voce, faccio partire solo la musica. E salve, sono qui sulla musica. Però senti che la musica mi viene a rompere le balle, perché la voce sta molto sotto, sta indietro. Perché ha bisogno di essere trattata un pochettino. Non esageratamente, ma un pochettino di trattamento occorre. Senza quello, quando la metti sulla musica, non sa cosa fare. Power. Riacomo un attimo tutti i miei machinjegni, che sono queste robe qui. Ok. E adesso esco con un suono che ha più senso. Io sto uscendo con un suono che ha circa 23 lufs. Una cosa di meno 23, meno 21 lufs. Una roba di questo genere. Direttamente in traccia. Perché esco con un suono così? Anche se è già trattato. Perché se lo devo dare a un produttore, lui deve avere la possibilità di arrivare a meno 21 su certi media. A meno 18 su altri. A meno 18 i lufs sono di più. È un suono più alto. Meno 23 è meno. Va al contrario l'audio, come con i dB. Ok. Quindi se gli mando un audio che ha già a meno 16 dB perché è ipercompresso, quello non sa cosa fare. Deve abbassare il volume. Poi suono tutto il suono così. Capito? Perché il compressorio fa questa cosa. Allora io ti dovevo parlare dei tempi di attacco e di rilascio. Porca miseria. Mi sono già perso e ho cominciato a parlare di altra roba. Vado in rack. Ok. Quella è la voce che entra. Il suono che entra. È come lo sto mandando dentro a OBS. Quindi poi come lo metterò sul programma di editing per il video, prima di pubblicarlo. Entra in questo modo. Vedi? Sono circa meno 12 dB. Tra meno 12 e meno 6. Ma sto lì in mezzo con la voce parlata. C'è una dinamica non eccessiva perché c'è comunque un compressore che sta già lavorando. Ma mi prende soprattutto tutte le cose che sono fatte in modo molto energico e fa sì che stiano all'interno di una dinamica giusta. Ma di solito il mio narrato è un narrato. Non è una roba eccessivamente spinta. Hai capito? Però hai visto che si alza il volume e si schiacciano tutte le ondicine che vanno in alto. Ora se io faccio play su questo... Un attimo che devo abbassare e chiudere tutti i compressori. Spengo tutto. Tolgo il limiter. E andiamo con la voce quasi nuda. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Ma troverai quella idea? Ok. Allora vedi che qui è così. Ora io passo il suono di questa voce all'interno di un compressore, un UA1176, che è questo per esempio. È direttamente sulla traccia originale. Perfetto. Tu vedrai subito una cosa. Hai i livelli di ingresso e di uscita. Man mano che si dà gain, volume di ingresso, più il compressore lavorerà. Ora lo tengo a 2. Sicuramente io entro già con un suono molto alto, lo so, eh? Perché facciamo regali ad altre persone? E infatti lui sta già comprimendo. Però più alzo e più lui comprimerà. Perché facciamo regali ad altre persone? E aumenta anche il suono. Ma il livello non è che poi sia aumentato tanto. Vediamo un attimo come sono i dB. Perché facciamo regali ad altre persone? 2, 2. E se lo metto a 0? Perché facciamo regali ad altre persone? Da meno 10, meno 2, 2. Sì, tua sorella non c'è. C'è un sacco di spazio! Perché facciamo regali ad altre persone? Meno 9, 5. Il perché facciamo regali ad altre persone va a meno 9, 5. Se io invece lo metto col compressore attivo, tipo gli do un bel po' di dB. Perché facciamo regali ad altre persone? E' andato da meno 9 a meno 1, 5. Meno 9, 5, meno 1, 5. Sono 7, 8 dB di differenza. Ci sono 8 dB di differenza di pompa. Guarda cosa succede adesso se do i tempi di attacco. Perché in questo momento i tempi di attacco forse non lo hai notato. Ma qui è 1. Cioè tempi di attacco molto lenti. Volevo farti vedere quali sono i tempi di attacco. Quindi te lo faccio vedere di nuovo qui il suono. Lo vedrai qua sotto. Posso anche togliere questo dalle balle. Perché facciamo regali ad altre persone? Perché facciamo regali ad altre persone? Vedi che il perché ha un picco molto alto. Ora lo rifaccio, il suono, con l'attacco molto veloce. I tempi di attacco. I tempi di attacco molto veloci. Perché facciamo regali ad altre persone? Perché facciamo regali... Ok. Perché facciamo... Va bene, va, fermati. Come puoi vedere, questo è il perché facciamo regali ad altre persone. Ma anche questo è il perché facciamo regali ad altre persone. Non ho cambiato i livelli del compressore se non i tempi di attacco. Significa che quando i tempi di attacco sono molto veloci, il compressore agisce brutalmente. E l'effetto che ti dà è un effetto più compresso. E quindi se vuoi non avere questo effetto troppo compresso, pur mantenendo una compressione mediamente piuttosto alta, che ti consente di guadagnare un certo livello di gain, puoi allentare i tempi di attacco. I tempi di rilascio invece, andiamo in fondo così si ripiglia, lo vediamo entrare, il suono entra da qui, eh. Prendiamo i tempi di rilascio. Adesso lo lascio con i tempi di attacco medi, ok? Perché facciamo regali ad altre persone? Che te ne frega. Adesso lo faccio, vorrei che tu guardassi questo meter, questa lancetta. Quando si sposta verso sinistra, significa che sta comprimendo. Facciamo così, così si vede tornare indietro. Perché facciamo regali ad altre persone? E torna indietro praticamente subito, ok? Se io invece faccio un rilascio, usiamo la parte finale, perché altrimenti se io lo fermo, si blocca il... Non puoi vedere l'immagine, non lascia andare, ok? Guardiamola. Ma troverai quella ideale per chiunque, con noi, su un notino. Ok, vedi che l'ha portata giù e tornava immediatamente indietro. Questo significa che il compressore smetteva di comprimere. Quando torna indietro, non comprime. Se io i tempi di rilascio, adesso a questo punto avrai capito, li metto molto lenti, qui ci metterà 5 secondi a tornare indietro. Lo so perché c'è scritto sul manuale. Ma troverai quella ideale per chiunque, con noi, su un notino. 1, 2, 3, 4, 5. Ed è tornato a zero, ok? Ci mette 5 secondi. Vuole dire che ogni volta che uno dice una battuta, dice qualcosa, appena arriva la successiva parola, quello è già compresso, te lo mantieni lì, dice ma è meglio. No, perché noi normalmente quando ascoltiamo le persone, non è che le ascoltiamo compresse, le ascoltiamo normali, hai capito? E quindi è più naturale se c'è un ritorno. Però è anche vero che in realtà è quasi più naturale. Nel senso che se è troppo veloce, troppo efficace, potrebbe dare un effetto un po' elettronico, un po' strano. Fatto sta che se lo lasci lento, troppo lento, hai sempre questo, tutto compresso così. Se la lasci andare, invece, comprime solamente i picchi, i momenti più alti, poi dopo torna indietro e hai il tempo di reagire alla parola successiva. Soprattutto se i tempi di attacco non sono velocissimi, perché se i tempi di attacco non sono velocissimi, avrai un sentore di una cosa più naturale. Ora, tu mi dirai probabilmente, ma senti, perché i tempi di attacco devono essere più lenti? Non è meglio che il compressore, già che deve comprimere, appena arriva un picco, un transiente, si chiamano così quelle cose lì, quelle undicine, i transienti, e appena arriva un picco, un po' alto, lo abbatte, così lo contiene all'interno del file audio, nei limiti giusti. C'è una teoria, che non è solo una teoria, è una cosa pratica, poi, che è stata messa in pratica un bel po' di volte, che dice questo. Se tu senti un suono in una canzone, per esempio, non so, un giro di basso, tum, 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 però sotto c'è anche un bongo o qualcosa che è più o meno sulle stesse frequenze, a quel punto il fonico ha un problema, perché due frequenze uguali, nello stesso posto non si sentono. Allora, cosa fanno? Fanno in modo che il compressore non attacchi subito, ma un pochettino, un attimino dopo, e poi lo comprime, questo boom se ne va, cioè lo senti solamente all'inizio, e poi dopo c'è il bongo, quindi è boom, bong, ok? Sono due suoni simili. Tu hai l'impressione di aver sentito quel giro del boom del basso per intero, anche se ne hai sentito solo un pezzo, e il resto, invece, era basso come suono. Cioè, il cervello ha un suo funzionamento, per cui, ah sì, l'ho sentito, e se lo hai ricostruito, se lo hai ricostruito, quindi tu hai avuto la sensazione di sentirlo, anche se all'interno di quel file era stato abbattuto. Stessa cosa accade quando tu allenti i tempi del compressore. In pratica, tu allentando i tempi del compressore, lo fai entrare un po' più tardi, però comunque contiene il suono, mantiene la dinamica più corretta, ma non comprime brutalmente, e tu hai l'impressione di sentire uno che parla normalmente. È più naturale, ok? Io l'ho capita più o meno così, se non è così e qualcuno ne sa a pacchi, me lo dica, così impara una cosa nuova. Allora, questo era l'1176, che te l'ho fatto vedere. Torniamo in sessione, è vero? Perché gli 1176 ci sono anche, per esempio, all'interno del... se tu sai di avere Logic, devi anche sapere che il terzo, a partire da sinistra, è un 1176. È proprio lo stesso compressore che abbiamo visto prima. Identico, pari pari. La differenza dove sta? La differenza sta nel fatto che questo qua è stato ridisegnato completamente da Apple e che praticamente gli ha messo una cosa che quel compressore là non ha, cioè l'input gain, il threshold, che è la soglia, il livello di soglia dove si definisce quando il compressore comincia a lavorare, poi il ratio, che è la quantità di compressione, che là non te l'ho fatta vedere, ma te la faccio vedere qui, è uguale identica, cioè la stessa roba, nel senso che il risultato è quello, il make-up, che là era la seconda rotellona, quindi abbiamo il volume d'ingresso, l'input gain, che là era... Aspetta, lo riapro, scusa, non è inutile che io faccia queste cose. Ecco, vedi? Ok, allora, qui sotto. Questa input corrisponde all'input che si trova qui. Posso spostarli in modo che si vedano tutti e due? Sì. L'output corrisponde all'output che è qui. Qui c'è un make-up che in questo compressore non è presente, perché c'è semplicemente un ingresso e un'uscita. Qui invece hai un ingresso, un'uscita, ma hai anche un make-up, che serve a potenziare, a rendere più udibile, a aumentare il volume del suono quando viene compresso. Perché? Perché quando viene compresso il suono si comprime. Adesso però te lo faccio vedere anche in forma grafica. Così abbiamo... Allora, intanto, stereo out. Qui non gli do l'uscita. Lo mando al bus numero 2. Fammi vedere quanto gain ho qua dentro. È bassotto. Lo teniamo un po' più alto, il gain. E accendiamo questo compressore. Signore e signori abbiamo acceso il compressore che ha l'auto gain off. Ho tolto tutte le automazioni, ok? Anche in questo caso abbiamo i tempi di attacco e rilascio che abbiamo visto prima. Attack and release. Qui, essendo la versione digitale di Apple, c'è anche la durata, i tempi di reazione. Qui è a 5 millisecondi e qui è a 5 secondi, esattamente come l'altro. L'altro non è indicato, ma qui lo puoi vedere. I tempi di attacco e rilascio, stessa cosa. Qui ci sono 200 millisecondi oppure 0 millisecondi, cioè velocissimo ad attaccare, ok? Ma in realtà anche gli altri sono velocissimi, cioè è stato adattato alla sua serie di compressori e dovrebbe emulare comunque un 1176. All'interno di questo compressore abbiamo il threshold e l'input gain. Ora, parliamo di livello di ingresso. Il livello di ingresso è un punto in cui, quando gli arriva il suono, il compressore comincia a lavorare. Qui è attivabile attraverso l'input. Gli dai più segnale, che chiaramente dovrai gestire poi anche in fase di uscita, perché aumenta i segnali di ingresso. Anche se aumenta la compressione, non sarà mai una compressione al 100%, per cui tanto ne dai e ti pareggia l'uscita. Ti ritroverai ad avere un'uscita più alta se aumenti l'ingresso. E quindi devi stare sempre lì, aumenti un po', abbassi un po', aumenti un po', abbassi un po', dai più compressione, alzi e abbassi, fai questa roba. Questo è più raffinato, nel senso che tu hai sì l'input gain, che ti fa vedere, per esempio, nella versione grafica. Guarda, te lo faccio vedere da qui. Portiamolo a zero. Mettiamo un retio molto bassettino, non è vero? Così funziona. È troppo a zero. Ok, perfetto. Allora, lo vedi qui che c'è una riga? Ok, il suono entra da qui, sbatte contro a una parete e comincia a salire. Quando trova una curva, una curva, come dicono in Russia, curva, che va discendente, viene compresso. Questo è il senso della compressione, cioè il suono sale e qui viene cazziato, praticamente. Si abbassa. Ti faccio un play. Ma troverai quella ideale per chiunque, con noi, su un notino. Ok, prendiamo un altro pezzo. Questo qua. Così. Ok, perfetto. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei luoghi. Vedi che la pallina arriva qui sopra. Quando arriva intorno ai meno 10 dB, vuole dire che hai incontrato già il giusto gain. A parte il fatto che devo spegnere l'altro ricompressore, vabbè che non è sulla stessa uscita in questo caso, però. Perché facciamo regali ad altre persone? Se io abbasso l'input, perché facciamo regali ad altre persone? La pallina arriva intorno ai 20 dB. Se io alzo l'input, che poi ce l'ho anche raffigurata qui, perché facciamo regali ad altre persone? Arrivo tra meno 12 e meno 9, quindi in questo pezzettino, quadratino qua in mezzo, la pallina ci arriva. Se io lo alzo ancora... Perché facciamo regali ad altre persone? Arriva sopra e viene compresso, e te ne accorgi anche a livello grafico qua sopra, che ti fa vedere che è compresso. Però, così facendo, ho sempre il solito problema. Cioè, io metto gain, poi devo andare da qualche parte ad abbassare il gain. Ok? Invece c'è il threshold. Cioè, io posso entrare anche con un segnale molto basso. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Cioè, se io volessi che non lavorasse neanche un po', per esempio, farei così. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere... Vedi, ho pareggiato l'audio, ma il compressore non sta lavorando. Voglio farlo lavorare appena, 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 appena. Lo metto a tre. Poi... Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Lo senti che adesso lavora? Ognuno ne ha una leggermente diversa. Bruttissimo, ma... Ma troverai quello ideale per chiunque. Ok? Abbassa il threshold e lui lo fa lavorare. Diciamo che in condizioni normali dovrebbe lavorare più o meno con un segnale di ingresso normale. Perché facciamo regali ad... E poi devi anche abbassare l'uscita, altrimenti ti va a palla. Che cavolo! Perché facciamo regali ad altre persone? Che te frega! Eh, così, e poi dopo con questo io abbasso e vado incontro al suono che sta entrando. Nel meter mi si traduce nel movimento della lancetta. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ok? Ognuno... Adesso qui ce l'ho alto, è veramente schifoso non tenerlo così. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Poi? Ognuno ne ha una leggermente diversa. Guarda qua sotto, adesso è bruttissimo. Ma troverai quella ideale... Cioè, sa proprio il suono bruttissimo. Ho i tempi di attacco di prima. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Ma troverai quella ideale per chiunque, con noi, su un notino. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Se allungassi i tempi di rilascio, perché facciamo regali ad altre persone? Chiaro? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi... Resta giù. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Lo sta comprimendo. Abbiamo un buon volume in uscita, una buona quantità di suono. Però non ha questo effetto compressione, ma semplicemente scaldato. Quindi i tempi di attacco vanno ad agire anche su questa cosa. Per il discorso che ti facevo prima. Cioè, tu hai sentito una cosa che però è stata immediatamente compressa. Cioè, quasi immediatamente. È come quando te la fanno solo vedere. Tu sai che c'è. A quel punto sai che c'è. Il tuo cervello dice, ah, me l'ha fatta vedere. Ce l'ha allora. Non lo so che cosa. Qualsiasi cosa. E a quel punto tu, dato che sai che ce l'ha, nella tua testa continua a verificarsi l'immagine di quella cosa che ti è stata appena fatta vedere, ma non ti è stata data del tutto. E se per caso non ce l'avesse? Cioè, dico, se non avesse i tempi di attacco e rilascio per il compressore, come si fa se il compressore non ce l'ha? Niente, si fa uguale. Perché è un altro compressore. È leggermente diverso, no? Allora, chiudiamo questo che non ci serve in questo momento. Questi, per esempio, sono due Teletronics. LA-2A. Io ho preso qui la versione Silver, che mi sembra sia quella che Chris Lord ha usato per la sua versione, che viene venduta attraverso Wave Audio. e il CLAA-2A hanno semplicemente un Gain e un Peak Reduction. E qui il Peak Reduction va a incontrare il livello, il punto di attacco, di incontro, il threshold, cioè aumenta la compressione. Che negli altri compressori dovevi fare aumentare, aumentando il Gain in ingresso, e allora a quel punto lui comprimeva di più. Qui semplicemente dai su al Gain Reduction, aumenti il Gain Reduction e lui riduce di più il Gain. Dall'altra hai semplicemente il Gain. Poi ci sono altre cose, perché, per esempio, è fisso, abbiamo detto, nel livello di compressione, che è fisso a 3 a 1 e se lo metti in versione Limiter, cioè premi questo qui, lo porti a Limiter, a quel punto lui lavora 100 a 1, non più 3 a 1. Nella versione di Chris Lord c'è anche questa cosa di 50-60 Hz, che ti interessa proprio relativamente, probabilmente neanche un po'. C'è il regolatore del focus e del lavoro del compressore sulle frequenze più alte, nel senso che spostandolo in senso anti-orario con questo, gli dici di lavorare su frequenze differenti, di lasciare stare le frequenze basse, per esempio, e vedrai che lavora meno il compressore perché si concentra su altre frequenze, a quel punto dovrai aumentare il Gain Reduction per avere una maggiore forza del compressore, ma può darsi che non ti interessi neanche farlo, perché a quel punto hai desaturato il lavoro del compressore sulle basse che non ti interessa probabilmente comprimere, e anzi vedrai che si sentiranno leggermente meglio, non le basse, nel senso che si ascolteranno meglio, perché loro stanno bene anche se sono spente. Quello sotto è il Teletronix, che è uguale e identico, cambiano la disposizione di alcuni pulsanti, ad esempio il Clado EA, il mix qui, e questo ce l'ha qua sotto come questa piccola vitina, che ti immagini il tecnico che per fare il mix del suono, il mix cos'è? In pratica c'è il suono compresso, e tu lo tieni a tutto gas, e poi decidi di mandarne solamente una parte al master in uscita, e quindi tenerti una parte di suono compresso e una parte di suono, una compressione parallela in pratica, e anche questo è un metodo per scaldare magari il suono della voce, pompando fortissimo col compressore, ma senza farlo uscire completamente, altrimenti diventa effettivamente innaturale. Quindi qua sotto il mix è qui, e qui è questa specie di cosa col cacciavite, che è veramente strano, ci potremmo mettere un po' meglio, invece c'è un cacciavite perché evidentemente hanno pensato che si faccia così. Il controllo delle frequenze è qui nel Teletronix, e lo switch per il limite e il compressore, ma non ci sono altri controlli, se non il controllo del V-meter, perché ti dice se tu stai guardando il gain reduction, cioè come funziona il compressore, se si sta facendo vedere il suono che sta comprimendo, oppure l'input, oppure l'uscita del suono, cioè ti dice a quanto stai uscendo. Questi sono componenti abbastanza importanti, perché effettivamente se entri in un compressore con un suono troppo elevato, e mandi in distorsione il suono all'ingresso, dopo ce l'hai distorto. In teoria dovrebbe essere questo che controlla tutto quanto. Guardando i suoni in uscita, puoi fare i parametri se ci metti un altro elemento dopo il compressore, per sapere quanto suono ci stai facendo entrare. Non lo so. Beh, comunque sono tutte cose che vanno tenute, è vero, shot o controllo. Ma come suonano questi compressori? Vediamo, questo qua è il cla. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere... E ce l'ho a 19 dB di picco qua sopra, l'ho tenuto così tanto per avere una misura. E hai visto che non si muove molto. Io non lo tengo con un gain molto alto, perché se sta con un gain molto alto, perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Dato che non hai possibilità di controllo dei tempi di attacco, questo con i suoi tempi di attacco e di rilascio potrebbe diventare piuttosto pesante come compressore per la voce. Infatti va fatto lavorare piano piano. E questa invece è la versione della Teletronix, questa è la grey, la silver, anzi. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Com'è? Perché facciamo a 11, e siamo veramente alti. La cosa, perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei... Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa, ma troverai quella ideale per chiunque con noi. Senti che, quando arriva oltre un certo limite, lo schiaccia brutalmente, è brutto anche da sentire. Questo va messo sempre, secondo me, accompagnato a un altro compressore. Usato da solo, è perfetto, se vuoi proprio avere un micro limiter alla fine, che ti scaldi un pochettino il suono. Tra l'altro, questa è la versione silver, che dovrebbe essere quella, non lo so di preciso, perché questa cosa mi sfugge, non so se il cla corrisponde alla silver, o a un'altra versione, perché, per esempio, questa è la versione grey, che in realtà è color oro. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nel... E anche questo funziona più o meno così. Vabbè, ti ho più o meno fatto capire come funziona. Se funzionasse a limiter, beh, se funziona a limiter è 100 a 1. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. ognuno ne ha una leggermente diversa, ma troverai quella ideale per chiunque. Senti che è un po' lento nell'attaccare, quindi c'è il ma troverai, e su mat ha già cominciato ad abbassare e si sente effettivamente l'orecchio. Per cui bisogna farlo lavorare, secondo me, veramente poco, da 0 a meno 3 è il suo limite di lavoro in un voiceover. Io sto parlando sempre e solo, esclusivamente, di voiceover. Ok, passiamo oltre, sioressioni. Ok, allora, adesso parliamo del compressore un po' più creativo, nel senso che usiamo il compressore, perché questo mi dà poi modo anche di introdurre un altro argomento dell'uso dei compressori solo sulla voce. In questo caso non lo userò sulla voce, ma lo userò su una musica, però farò pilotare il compressore dalla voce. In pratica uso il site, il chain sul compressore, facendo sì che la musica venga abbassata, compressa, ma in questo caso abbassata, funzionerà da mixer, anziché da compressore per pomparla, quando entra la voce. Ok, è chiaro, adesso vi faccio vedere. Allora, qui siamo in sessione, è vero? Siamo di nuovo in sessione, e questo è il compressore che ho messo, allora, se guardi il mixer, questa è la base, la base musicale, questa qui gialla, questo qui blu è la voce che ha i suoi compressori in questo canale, lo sto facendo lavorare attraverso un bass. Non ti voglio incasinare alla vita, è solamente perché questo mi consente di gestire meglio i volumi di ingresso del suono nei compressori, anziché andarci direttamente col suono che ho registrato. e quindi nella base musicale, nella base musicale c'è il cursore che tu potresti alzare, abbassare quando fai partire la musica, fai così. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa, ma troverai quella ideale per chiunque con noi su un notino. Perché facciamo regali Ok, in pratica, adesso faccio in modo che, scusa un attimo, vada esattamente su tutto lo spot. Come vedi, io posso abbassare il suono, ottenerlo anche semplicemente basso, poi c'è la musica sotto nelle pause del parlato, no? Perché facciamo regali ad altre persone? Ci sta. Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ma posso integrarla meglio, anziché abbassare di 6 o 7 dB, posso fare in modo che si abbassi fino a quasi a 20 dB e quindi dia molto più spazio alla voce e poi che quando non parla ri-emerga un pochettino la musica così ha un senso più, ha più senso. Mo' ti faccio vedere. Compressore attivato. Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Ma troverai quelle... Hai visto? Hai visto? e poi ci mette in questo caso tre secondi a tornare indietro perché ci ho messo tre secondi. Ma se mettessi per esempio un secondo e qualcosa... Perché facciamo regali ad altre persone? Beh, per vedere la reazione nei loro occhi. Ognuno ne ha una leggermente diversa. Ma troverai quella ideale per chiunque... Ok? Ok, funziona... Capito il funzionamento, il meccanismo? È questo. C'è anche un'altra cosa che io mi stavo svagando a studiare che è la parte del sidechain detection e questo mi ha aperto un mondo ulteriore perché se il compressore può fare una detection del tipo di frequenza significa anche che può orientare il suo lavoro solo su certe frequenze e non su altre. E non so se ti è mai capitato di sentire che quando metti il compressore il compressore spinge molto e senti tutte le cose molto molto marcate, soprattutto le frequenze alte le consonanti e tutta quella roba oppure di sentire i fiati pesantemente spinti o i bassi che cominciano fuori con la roba così ecco quando accade questo è perché il compressore lavora naturalmente su tutta la gamma di frequenze che tu sei riuscito a inserire attraverso il tuo microfono ma se tu facessi comprimere solamente una parte delle frequenze perché io lo stavo facendo qui per fare diciamo una detection del suono in base al tipo di musica che c'era ma non aveva molto senso perché in fondo qui mi deve abbassare tutta la musica ci sono io poi c'è la musica facciamoci spazio è come un balletto però si può anche inserire molto di più all'interno della musica facendo in modo che sia più miscelata più mixata e appunto col detection si può ottenere un risultato simile però il detection siccome sente solo una serie di frequenze potrebbe non attivarsi quando ne sente alcune attivarsi solo quando ne sente altre e qui dipende dal tipo di suono che hai cioè non so se tu le frequenze molto basse i rombi non vuoi che agiscano sul compressore ma solamente la parte media che è la parte intelligibile della voce agisce sul compressore e tutto il resto sarà musica hai capito e posso anche farti sentire qualcosa vediamo eh perché facciamo regali ad altre persone beh per vedere la reazione nei loro occhi ognuno allora rientriamo in sessione è vero ho messo in mute il compressore da cui esce la voce originale ok cioè la voce pulita senza il compressore e ti faccio sentire come agisce il compressore perché facciamo regali ad altre persone beh per vedere la reazione nei loro occhi ok quando quando sposti le frequenze di azione lui si muove in un certo modo perché facciamo regali ad altre persone beh per vedere la reazione nei loro occhi ognuno ne ha una leggermente diversa ma troverai vedi lo focalizza su determinate frequenze perché facciamo regali ad altre persone beh per vedere la reazione questo ti consente se lo attivo e vado in compressione perché facciamo regali ad altre persone beh per vedere la reazione nei loro occhi ognuno ne ha una leggermente diversa ma troverai quella ideale per chiun ok e come vedi agisce di più perché becca solo determinate frequenze quando entrano quelli che sono molto intelligibili allora lui buca e fa partire il compressore gli fa abbassare di più il volume Q corrisponde praticamente alla campana la campana di lavoro perché non è mai una frequenza secca su cui lavora ma è sempre una specie di campana appunto in cui sopra c'è il punto d'attacco della campana che è la frequenza madre poi sotto ci sono tutto il resto delle frequenze che riesce a raggiungere in base al fatto che la campana sia larga non è vero oppure molto stretta non è vero ok va bene ti ho fatto vedere anche questa cosa e questa mi serve perché la stessa cosa del lavoro sul compressore si può fare direttamente sulla voce anziché sulla base musicale cioè fai in modo che il compressore abbia una detection sul tuo suono e si concentri a pompare o a comprimere determinate parti del suono e non altre è una figata pazzesca volevo farlo breve avevo detto 20-25 minuti al massimo guarda l'avevo anche scritto l'avevo segnato abbiamo fatto tutte queste cose abbiamo fatto i tempi fissi reti 6-chain l'avevo messo come terzo punto poi invece ho deciso di metterlo alla fine perché mi sembrava che fosse più chiaro mettere alla fine la questione del 6-chain dopo averti fatto vedere per esempio che avveniva questa cosa anche mixando col compressore che si poteva usare il 6-chain che poi da lì mi è venuto in mente di capo che miseria se puoi fare questa cosa con il mix potrei farlo anche sulla voce e poi le intuizioni successive sono state ma miseriaccia la miseria se io uso il compressore così com'è as is lui praticamente lavora su tutta la gamma di frequenze adesso ti faccio vedere che cosa intendo entro in sessione siamo in sessione eccola qui erotica e qui sotto c'è il paz che ti fa vedere tutte le ondicine come vedi io produco frequenze che vanno dai 20 Hz ai 20 kHz in realtà all'interno pur se la mia voce in realtà si esercita molto tranquillamente dai 125 150 fino agli 8 kHz il resto è rumore sono tutti tutte tutte rumore perché non è che la tua voce sia solamente quel suono però quella parte di suono in modo particolare è quella intelligibile ed è quella che l'orecchio umano sente di più cioè quel suono lì lo sente proprio il suo livello di percezione di quei suoni dalle frequenze medie fino alle medio-alte è bassissimo bassissimo intendo dire che lo sente subito una frequenza media anche con un volume molto basso la ricevi le frequenze basse e le frequenze alte invece no siccome il compressore se non lo tari in un certo modo comprime tutto ti abbassa tutte le medie sì però ti abbassa anche le basse e poi dopo tu dai potenza di volume in uscita alzi tutto ma ci sono tutte le basse che comunque vanno a riempire di suono questa scatola che è comunque una scatola limitata quella dei file audio inutilmente perché quelle frequenze sono state abbassate compresse quindi rimangono nel limite e poi tubano trombano fono una roba strana sono innaturali allora perché non proviamo a fare questa cosa quello che ho scoperto è l'acqua calda perché poi ho visto fonici che lo fanno regolarmente però nessuno me l'è venuto a dire ma guardandolo ho intuito questa cosa quindi adesso te la dico allora io adesso attivo il compressore inizio con un Happy Vision se io adesso per esempio attivo l'i-pass il pass alto e comincio tiro via 600 E fino a 600 Hz senti che il suono si è un pochettino assottigliato posso fare lo stesso tipo di taglio anche sulle frequenze alte e senti che si assottiglia ora lo attivo adesso l'hai sentito che si è assottigliato ridò frequenze alte ok l'hai sentito si è assottigliato ridò le frequenze basse se anche le tolgo al massimo hai una percezione migliore della voce così questa però è una pura equalizzazione cioè con questo proprio filtro le frequenze punto e basta io invece non voglio filtrarle queste frequenze non le voglio toccare c'è una cosa che si chiama side chain che è questo pulsante qua quando io lo premo il side chain vedi che non si accende perché aspetta che sia acceso il compressore perché è lì che lavora cioè manda il suono in side chain cioè di fianco al compressore adesso io ho tarato il compressore in modo piuttosto allora medio slow lo mettiamo slow come tipo di attacco un attacco slow però si sente che sta lavorando il compressore ci dà dentro di brutto ci dà pesantemente e cosa sono i tempi di attacco che rilascio il rilascio io lo vorrei molto veloce ok adesso andiamo meglio i tempi di attacco qui come sono messi allora questo è hard questo lo knee slow il ginocchio cioè il muro di cui ti parlavo prima dove arriva il suono e poi incontra un muro che lo fa abbassare che lo comprime può essere un muro che ha una curva morbida oppure può essere un abbassamento totale tipo limiter proprio sega di brutto il suono allora quello si chiama knee che sta proprio per ginocchio allora lo vedi lo vedi questa curva che c'è qua sopra curva questa qui qua c'è no non c'è in questa c'è in questo ok va bene qui c'è non tutti i compressori ce l'hanno quindi ecco questa curva guarda che il ginocchio lì è diventato un pochettino più è un angolo praticamente questa è la curva che in alcuni compressori è regolabile quindi è morbida vuole dire che quando il suono comincia ad essere compresso lo fa piano piano quindi è più dolce l'attacco oppure può essere secco ecco quindi io qui l'ho tenuto comunque soft e il compressore sta lavorando tanticchia adesso lo faccio lavorare ancora di più ok così lo senti proprio lavorare tanto un po' di più ancora di più lo facciamo lavorare un po' di più ok perfetto adesso il compressore spinge veramente tanto e senti che l'ha intubato il suono bene io in sidechain perché ho attivato il sidechain gli mando un high pass cioè gli dico di cominciare a filtrare tutte le frequenze fino tipo a 250 hertz tu lo senti che si è liberato il suono se hai un paio di cuffie buone te ne accorgi si è liberato il suono perché se io lo richiudo come era prima senti che le frequenze basse sembrano entrare a disturbare tutte le medie se invece io lo libero non è che la voce sia meno calda perché non è quello che fa semplicemente non comprimerà più tutta quella parte di frequenze basse fino a 250 hertz quindi fino qua in mezzo dove proprio esercita la voce non comprimerà da 250 a 20 lavorerà meno il compressore ma lavorerà molto di più sulle frequenze medie le frequenze medie sono quelle intellegibili dall'essere umano ma sente meno le frequenze basse allora se io comprimo le frequenze medie e non troppo e non vado a comprimere le frequenze basse che tanto non fanno tantissimo volume da solo da soli se io poi alzo il gain a questo punto rimango comunque all'interno di un range dinamico quindi un livello di uscita decente perché comunque il compressore sta comprimendo e ho però più calore la stessa cosa probabilmente la posso fare sulle frequenze alte cioè se io gli dico di non enfatizzare i suoni cioè di non comprimere i suoni fino a 2 kHz e mezzo per esempio mi rimarranno in mezzo solamente questi suoni ti faccio sentire che suoni sto mandando in questo momento al compressore che sta comunque lavorando tolgo il sidechain ed ecco queste sono le frequenze che sta sentendo in questo momento il compressore e lavora solo su quelle frequenze queste frequenze qui ok se attivo il sidechain ecco che il suono non viene più filtrato direttamente in uscita ma solo sul compressore è tutto qui è una cosa estremamente semplice che puoi fare con alcuni compressori non lo puoi certo fare con tutti poi ti faccio vedere come eventualmente farlo anche con un compressore standard ora attivo l'SSL ok anche nell'SSL ho attivato il compressore andiamo in contrasuono con il threshold e poi aumentiamo il ratio lo portiamo quasi a quasi ad essere un limiter senti che che spinge veramente tanto gli do anche più più gain in uscita vediamo un attimo più gain in ingresso in uscita bla 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 ok adesso senti che comprime tanto è più o meno il gioco che faceva prima l'APVision anche qui posso fare la stessa identica cosa cioè se io adesso dovessi abbassare le frequenze basse senti che semplicemente la voce si assottiglia il suono si assottiglia se invece io passo in side chain allora il cambio è completamente diverso perché il compressore non lavora più su quelle frequenze qui può arrivare fino a 250 no 500 quanti sono non se legge perché è piccolissimo mi servirebbe una lente di ingrandamanta ma i cosi della UAD sono fatti per gli schermi piccoli che poi ti danno i numeri grandi ho preso uno schermo grande e mi sono fregato ho preso il release troppo troppo lento adesso ho messo il compressore con release veloce ok adesso si sente forse meglio se io tolgo anzi ridò tutte le frequenze basse al side chain del compressore senti che il compressore si incubisce sì ma non è perché in questo caso non è perché ho tolto delle frequenze basse al suono che senti tu ma direttamente proprio a quello del compressore il compressore non pompa sulle frequenze basse e le frequenze basse si sentono meglio porcaccia la miseria e le frequenze alte dato che sto pompando molto con il compressore posso fare la stessa cosa anche sulle alte allora a questo punto senti che non spinge più sulle frequenze alte ma mi comprime solamente le frequenze medie posso regolarlo e tararlo in un altro modo e se per esempio io lo tolgo dal side chain ecco questo è il suono che io sto mandando al compressore è chiaro che deve essere tarato a seconda del progetto del suono del microfono della tua voce e di tutto il resto però la tecnica alla fine è sempre quella tu pensa che io volevo essere breve pipino il breve sì va bene allora tutto questo il lavoro dei compressori serve a fare in modo che il suono rimanga un po' più omogeneo che non ci siano effetti di compressione su certe frequenze che in questo modo il suono risulti caldo così come deve essere senza essere cazziato sulle alte sulle basse senza diventare fondamentalmente innaturale quindi l'uso dei compressori è fatto ragionandoci sopra dici fai una fai un setup che si possa utilizzare che lo voglio copiare non ha molto senso perché dipende dalla tua stanza dalle risonanze che ci sono nella tua stanza anche quelle andranno a incidere sul suono che il compressore elaborerà ecco perché devi sapere dove andare a mettere le mani serve solamente a questo e poi alla fine per fare in modo che tutto il suono che tu produrrai venga contenuto e limitato all'interno del limite della scatola del file audio tutta questa pippa sui compressori aveva solo ed esclusivamente questo scopo pensa te per fare un voice over va bene ciao buonanotte è stato bellissimo come si succede questo grazie a tutti grazie a tutti